Buonasera a tutti, 20 e 28 siamo in diretta allo studio centrale di TV 2000. Allora questa sera vi faremo vedere delle immagini straordinarie perché ci sono tanti giovani che realizzano davvero cose incredibili. Quindi guardate queste immagini veramente splendide che vi faremo vedere. Che cosa sono queste immagini? Ci sono imprese che hanno realizzato mobili con la fibra del fico d'India. C'è chi coltiva i funghi con i fondi del caffè, chi alleva le lumache e riesce ad ottenere anche un caviale particolarmente pregiato in tutto il mondo. E sono dei giovani che realizzano tutto ciò. E infatti in studio abbiamo tanti giovani partendo dal presidente dei giovani della Col di Retti, il presidente Vittorio San Giorgio. Buonasera presidente. Alla mia sinistra due di questi imprenditori che hanno ottenuto il riconoscimento nazionale Oscar Green, che è veramente un vero e proprio Oscar a livello nazionale per quanto riguarda l'agricoltura e l'ambiente. C'è il titolare, possiamo dire, dell'allevamento istruzzi agriturismo Girodo. Marco Girodo ci spiegherà con lo struzzo che cosa riesce ad ottenere. E poi Marcello Rossetti, titolare della Sicalindi. E anche lì ci spiegherà Marcello Rossetti che riesce a realizzare mobili con la fibra del fico d'India. Io partirei però subito dal presidente del San Giorgio. I dati sono estremamente interessanti. In un momento di crisi sappiamo cosa sta emergendo lungo la penisola. Ci sono tantissime tensioni, il lavoro non si trova. Però la scelta di andare e di realizzare delle imprese nel mondo agricolo non è una scelta di risulta. Cioè non è che non c'è lavoro e uno va in campagna. Sono degli obiettivi ben precisi, l'ha detto oggi. 300.000 imprese nel 2013, una su tre è fatta da giovani sotto i 35 anni. Una su tre è fatta da giovani sotto i 35 anni e questi giovani riescono a mettere insieme e produrre il 17% del PIL del nostro paese. Cioè circa 250 miliardi di euro in questo paese sono fatti da giovani come noi che quotidianamente si svegliano e producono e cercano di farlo crescere questo paese. E penso che in un momento come questo dove l'Italia è lo sbando anche per queste manifestazioni che sta facendo è un bel segnale di propositività e forse anche un segnale di come si devono fare determinate cose in un paese come il nostro che deve ritrovare la strada giusta. Poi parleremo delle tante iniziative che avete presentato questa mattina. Davvero tanti giovani entusiasti. C'erano questa mattina a Roma premiati con una creatività, una fantasia che veramente è incredibile. Allora iniziamo a parlare della vostra azienda e parliamo di Marco Girodo. Allora hai deciso di lavorare, di creare un allevamento di struzzi ma di utilizzare tutto quello che era possibile. Non solamente l'uovo di struzzo che vediamo qui rappresentato sul tavolo centrale, ma tra pochissimo anche la regia inquadrerà tutti gli altri prodotti. Perché ti è venuta questa idea? Sei giovanissimo? Come ti è venuta l'idea? Perché è egito? Quali difficoltà hai trovato? Ma diciamo che tutto è partito dall'aver scoperto gli struzzi per caso, diciamolo così. Poi con mia moglie abbiamo deciso di documentarci, di conoscere meglio l'animale e nel 2002 siamo partiti con i primi capi. Devo dire che è un animale che dà molte soddisfazioni. Noi siamo cresciuti nel tempo con lo struzzo, con molti sacrifici che però alla fine ci hanno premiato. La gente ha capito, acquista il prodotto, la carne, il struzzo, c'è che ha delle particolarità interessanti? La gente diciamo che ha capito, recepisce il messaggio. Anche dal punto di vista della salute? Certo, assolutamente. Anche perché noi abbiamo molti dei nostri clienti che vengono, vuoi per chi ha delle carenze di tipo alimentare, visto che la carne dello struzzo è molto ricca di ferro. Comunque ha un tasso di colesterolo tra i più bassi sulla catena animale. Lei però in Piemonte non si è fermato, lei arriva dal Piemonte, non si è fermato alla realizzazione di un allevamento di struzzi. Ha deciso anche di sfruttare, usiamo questo termine, tutto quello che era possibile, anche con una maggiore attenzione verso l'ambiente. Quindi escono fuori dal suo allevamento portafogli, cinture. Come le realizza? Io abito in un piccolo comune, nel comune di Tavagnasco, e devo dire che dallo struzzo abbiamo cercato di ottenere il massimo, vuoi dalle uova, dalla carne, che viene poi anche trasformata per produrre dei salumi, salame di struzzo, e poi per ultimo, ma non per ultimo, la pelletteria di struzzo, che sicuramente è una pelletteria che ha il suo pregio, paragonabile anche al coccodrillo o al pitone, se vogliamo. Sicuramente... È costosa? Faccio una domanda un po'... Allora, sul costoso diciamo che tutto ha il suo prezzo, e il prezzo va sempre in base alla qualità e alla lavorazione del prodotto. Allora, dal Piemonte ci trasferiamo invece nel sud Italia, la Puglia, e allora Marcello Rossetti, titolare della Sigalindi, ci spieghi come anche a lei è venuta questa idea, prendendo il fico d'India, di cui l'Italia pone a tantissimo, prendendo questa fibra del fico d'India e trasformandola in immobili. Ma si realizzano proprio immobili? No. È una idea di rivestimento, col quale appunto si possono arricchire mobili di tutte le forme, come ho mostrato oggi al premio Oscar Green. Faccio un passo indietro, quindi come è nata l'idea, che era la prima cosa che mi stava chiedendo? Tutto è nato qualche anno fa, notando questi piccoli filamenti, fibre legnose, che si vedono nelle campagne, si vedono però marcire appunto sotto le piante, derivanti da quelle pale che vengono potate quasi annualmente da tutti gli agricoltori. Io notando questo filamento ho detto, mi sembra troppo bello questo disegno per farlo marcire ogni anno. Ecco, se lo mostra vicino alla telecamera, prego, prego. Ho detto, bisogna per forza trovare il metodo per salvaguardarlo e non farlo marcire più. Dopo varie tecniche ci sono riuscito, e quindi questo che vediamo non è la fibra che si trova tale e quale in natura, ma ha già subito la lavorazione e il processo è pure brevettato, coperto dal brevetto, quindi è un semilavorato. La lavorazione per ottenere questo è già complessa, noi andiamo oltre perché prendiamo il pannello di multistrato con i quali si realizzano tutti quanti i mobili di qualità e andiamo a rivestirlo e abbiamo creato una sorta di impiallacciatura, quindi si va ad arricchire, imprezzosire il mobile, qualunque forma esso abbia, facendo un puzzle preciso, una fibra accanto all'altra. Lavorate solo per l'Italia o lei è giovanissimo a questa impresa? O riuscite anche ad andare al di fuori dei confini nazionali? Allora il nostro showroom che si trova a Lecce ci ha consentito di avere già il feedback di altri clienti stranieri esteri, quindi abbiamo spedito, iniziato con le spedizioni di piccoli complementi d'arredo in tutte le parti del mondo, però dobbiamo incrementare. Presidente San Giorgio, allora abbiamo visto queste due storie, poi continuiamo a parlare con questi giovanissimi imprenditori che hanno ottenuto questo riconoscimento importante. Mi colpiva questa mattina, vedendo questi capitani d'azienda giovanissimi, che qualcuno si è inventato che dal fondo del caffè, da quello che si utilizza nei bar, va a raccogliere i fondi dei caffè in tutti i bar e riescono a produrre dei funghi, e riescono a venderli sul mercato. Un altro addirittura ha creato questo caviale dalle lumache in Sicilia e faceva tutt'altro lavoro, si è reinventato. Mi raccontava che faceva pannelli solari e ha deciso di investire nell'agricoltura, anche a costi abbastanza limitati, lo diciamo ai nostri telespettatori, perché non ci sono costi elevatissimi per fare un allevamento di lumache. Come escono fuori, in un momento di crisi così, tante energie da parte dei giovani? È la disperazione o è la voglia di ribellarsi? Ma, ecco, è una bellissima domanda, perché ci sono vari modi di potersi ribellare. Se noi abbiamo la capacità di mettere questa energia all'interno di un canale che poi porta produttività, tiri fuori dei giovani che vogliono generare delle piccole rivoluzioni. E sono ancora più forti se sono giovani di prima generazione in agricoltura, perché molte volte si dice che in agricoltura può riuscire solo chi ha già un'azienda alle spalle. Invece queste sono tutte testimonianze di ragazzi che con l'agricoltura non avevano niente a che fare. Addirittura molte volte hanno fatto studi anche molto lontani, hanno fatto studi molto lontani dall'agricoltura, invece decidono di entrarci e danno un grande successo. Chiedo a Girodo la difficoltà maggiore che ha trovato mettendo su questa azienda, proprio se mi dai una risposta in 30 secondi, la burocrazia, l'accesso al finanziamento delle banche, cosa? Diciamo che in primis la burocrazia, soprattutto sulle trasformazioni dei nostri prodotti, perché molte volte l'agricoltore viene stoppato solo perché è un agricoltore. E questo io, onestamente un piccolo agricoltore, e questo onestamente io non lo trovo giusto, questa non complicità con le istituzioni, ecco, non tutte, non sto colpevolizzando. Ma qualcuno rema contro, dice lei. Secondo me sì. Rossetti, qual è l'ostacolo maggiore che ha trovato finora? Nel caso mio, proprio la difficoltà tecnica nel riuscire a fare qualcosa che o nessuno aveva pensato prima d'ora o che ci aveva pensato di salvare questa fibra ma non ci sia riuscito. Lei ha brevettato, vero? Più brevetti perché abbiamo brevettato sia il processo di produzione e poi anche la riproduzione fotografica e il calco. Quindi è un brevetto abbastanza complesso e che va arricchito con i nuovi prototipi che stiamo realizzando. E allora, Presidente, vogliamo vedere un altro imprenditore, imprenditore che ci trasferiamo in Sardegna e ha deciso di fare per la prima volta la mozzarella di pecora, insomma, davvero un qualcosa di originale. Vediamo l'intervista. Ci siamo inventati la mozzarella di pecora perché c'era la necessità di trasformare il latte di pecora in una pasta fresca, una pasta filata. Dunque abbiamo cominciato a filare la pasta anche se molti dicevano che il latte di pecora non fila. Dunque non è possibile fare la mozzarella di pecora. Noi abbiamo avuto molta tenace e siamo riusciti a fare la mozzarella di pecora anche del latte di pecora. Che spazi ci sono per commercializzarla poi? Forse questo è il problema più grande? Ma penso proprio al contrario. Noi che siamo un'azienda piccola dunque abbiamo una produzione di nicchia ma la richiesta è abbastanza larga e considerata perché è un buon prodotto dunque è anche un prodotto che sostituisce e va a dare possibilità all'intollerante di mangiare anche una mozzarella nonostante non potessero mangiare. Dunque il mercato è abbastanza ampio. Presidente San Giorgio possiamo dire alle persone che stanno a casa, giovani e meno giovani che magari ci ascolta anche qualche mamma, qualche nonna che può incentivare nel proprio nipote questo tipo di attività è davvero molto costoso fare attività del genere nei campi, in agricoltura o ci sono tante piccole iniziative come ho visto io anche stamattina che si possono realizzare non dico a costo zero ma con un investimento davvero minimo? Allora noi abbiamo sbontato un po' di stereotipi nel mondo del business dell'agricoltura perché non è detto che devi avere una grande dotazione di capitali per partire devi avere sicuramente un buon progetto, un buon piano per poter capire da qui a i piani si fanno sempre a distanza di 5-10 anni capire dove vuoi andare questi giovani, l'esperienza parlava l'amico che produce e che alleva struzzi e produce uova è partito nel 2002 quindi ci sono passati 10 anni ed oggi comincia a riscuotere un grandissimo successo in termini poi di crescita quindi più che fermarci su quelle che possono essere le difficoltà di entrata io parlerei soprattutto di una crescita dell'imprenditorialità e della capacità dei giovani di formarsi per poter fare gli imprenditori. Ci sono strumenti anche di aiuto per chi vuole mettersi in proprio? Ci sono, noi abbiamo lavorato per quanto riguarda l'accesso al credito che è il primo elemento a cui si pensa abbiamo lavorato in un progetto, a un piano che si chiama Progetto Giovani di Coldiretti Credit Agri che ha messo già nel 2013 un plafond dedicato per i giovani che vogliono fare start up di 100 milioni di euro quindi 100 milioni di euro da parte di una grossa banca di questo paese che ha deciso di investire sulla genialità dei giovani che vogliono entrare in agricoltura. Quindi magari possono, le persone interessate possono in qualche modo vedere il vostro sito o chiamare la Coldiretti? Noi abbiamo lanciato ieri il nostro sito proprio in occasione dell'Oscar Green, il sito rinnovato dove addirittura c'è la figura di un tutor che è il presidente dei giovani delle diverse province italiane che affianca questi giovani start up che vogliono iniziare in agricoltura. Rossetti, lei è del Sud, si dice sempre che il Sud si punta al cosiddetto posto da dipendente cioè gli imprenditori sono pochi, non c'è questa voglia di mettersi e di rischiare. Lei? No, va bene, forse qualche anno fa qualcuno... Ha avuto sempre quest'idea? No, io ho avuto sempre l'idea di rischiare che bisogna rischiare per fare qualcosa per avere successo, avere altre chance. Comunque qualche anno fa forse uno pensava o ambiva ad avere il posto fisso, ora non più. Uno magari non ha il coraggio di rischiare e quindi cerca di fare qualche lavoretto magari non improprio però ormai hanno abbandonato l'idea di cercarsi il posto fisso, assolutamente. Di Rodo, serve l'organizzazione, avere la tenacia, la capabilità nel perseguire un'idea? O che serve per poi riuscire ad ottenere e a creare un'azienda come la sua? Immagino che è stato uno dei primi a fare l'allevatore di istruzzi del nostro paese, insomma la guardavano anche con un occhio un po' così disincantato, di superficialità, dicendo insufficienza, dicendo ma che cos'è questo allevamento di istruzzi? E poi lei come è andata avanti? La tenacia? Cosa ci ha messo? Io sono andato avanti con una parola che ho conosciuto grazie alla Coldiretti e che la Coldiretti ha portato avanti, è la multifunzionalità aziendale. Traduciamola però, traduciamola vuol dire che uno, gliela faccio molto stringata, non deve solo zappare la terra, con la multifunzionalità aziendale noi oltre a allevare gli istruzzi facciamo anche fattoria didattica dove accogliamo le scuole, dei piccoli gruppi di persone che sono interessate a conoscere la nostra realtà. E poi in più c'è anche l'agriturismo che ci ha dato uno sfogo notevole di pubblicità, ecco, per far conoscere appunto i prodotti che noi facciamo. Insomma, bisogna superare certi stereotipi, Presidente. L'agricoltore e l'imprenditore agricolo oggi è quello che va sul computer. Voi siete tre giovanissimi imprenditori di aziende avviate, avete messo su queste attività, ma insomma si lavora dietro al computer, qualcuno addirittura in camice bianco. Insomma, è cambiato un po' tutto rispetto al nostro immaginario. C'è un aspetto, innanzitutto mi piace condividerlo perché siamo nella stagione in cui si parla tantissimo di precari. Noi siamo dei precari per definizione, perché se ci va male il nostro progetto abbiamo perso il nostro posto di lavoro, quindi quotidianamente lavoriamo per fare in modo che quella cosa, cioè custodiamo il nostro progetto di impresa e lo facciamo crescere. Questo significa anche rinnovarsi come persone e pretendere di più da noi stessi. E questo ha portato a cambiare l'agricoltura. L'agricoltura non si è seduta su se stessa e quindi si è proiettata verso il futuro. Poi ci dirà quanti posti di lavoro si possono creare in agricoltura, ma prima le faccio vedere un altro, si fermi, un altro servizio, ci spostiamo al nord, in Veneto, c'è questo ragazzo che ha creato sul Kiwi, questo prodotto straordinario, ha creato su una filiera molto interessante. E questa azienda, ho letto poi e documentandovi in pomeriggio anche su internet, questa azienda addirittura vede l'interesse di multinazionali americane che arrivano da qualsiasi paese del mondo per acquisire questa azienda. Guardate che cosa ha fatto questo ragazzo nel Veneto. Noi abbiamo creato questa linea smoothie, che non è altro che un frullato a base di Kiwi, e poi l'abbiamo declinata con altri blend, per cui abbiamo creato Kiwi mela, Kiwi pera, e poi anche una linea di confettura, è sempre quella stessa filosofia, perché appunto vogliamo creare questa nuova filosofia di consumo del Kiwi stesso, perché capite bene che il Kiwi è sempre un prodotto particolare, difficile da consumare, non si trova mai allo stato di maturazione giusto, organoleticamente non è sempre pronto, e questo è un take away per i giovani e per i meno giovani, pronto al consumo in qualsiasi occasione. State già pensando, non so, producete anche per l'estero, esportate? Noi facciamo l'80% estero, i nostri prodotti vanno in tutta Europa, e da quest'anno abbiamo iniziato con l'oltremare, e soprattutto in Canada, che è un mercato interessante, che è la ricerca di nuovi prodotti, ma soprattutto è la ricerca del made in Italy, di quei prodotti che loro ovviamente non possono produrre. Presidente, è una giornata di festa. Per voi, per i giovani imprenditori premiati, per queste idee innovative, fantasia, creatività, però non bisogna dimenticare che poco più di 20 giorni fa c'è stata un alluvione in Sardegna, e tantissimi suoi colleghi, tantissimi imprenditori agricoli, non solo, all'alà delle persone che sono morte per l'alluvione, hanno grandi difficoltà. Bisogna ricordarla anche in questo momento, penso che sia giusto. Allora le faccio vedere l'intervista al Presidente regionale della Coldiretti della Sardegna, e poi la commentiamo un attimo con lei in studio. E' una situazione che pian piano si sta tornando alla normalità, con la collaborazione un po' di tutti. Certo, c'è tanto da fare, perché tantissimi hanno perso i propri beni, le proprie case, alcune strutture delle proprie aziende, c'è tanto da lavorare soprattutto sulle strade di accesso alle aziende agricole. I settori più colpiti, l'agricoltura della Sardegna? Ma i settori riguardano un po' l'ortofrutta, le piantagioni, quei territori che ricadono appunto sui cigli dei fiumi, che sono quelli maggiormente colpiti, in quanto si tratta di un danno circoscritto proprio a quelle aree. Per cui questi sono sicuramente quelli che hanno colpito maggiori danni, fermo restando che poi l'allevamento vino, che è sparso in tutta la Sardegna, ha subito dei furti danni, morìa di bestiame, ancora oggi non si riescono a ritrovare tutti i capi. Quindi chiediamo che l'agenzia agricola e sarde, quanto prima di quantificare con certezza i danni, a oggi ricadono 61 comuni del territorio regionale. Sono molto più fiducioso nella nostra caperbietà che non sulle decisioni politiche, perché molto spesso, l'abbiamo visto anche in passato, c'è stata un'allevione sempre in Sardegna e ancora oggi non tutti hanno avuto ristoranti quei danni. Un doveroso ricordo, perché non bisogna spegnere le telecamere su quello che è accaduto in Sardegna. Abbiamo visto che con grande caperbietà vanno avanti gli imprenditori agricoli della Sardegna. Presidente, dicevamo, quanti posti di lavoro si possono creare nel mondo dell'agricoltura? Voi avete fatto una stima. Abbiamo fatto una stima e se riusciremo a portare a casa quello che abbiamo chiesto con la mobilitazione in questi giorni abbiamo un po' bloccato simbolicamente le frontiere del Brennero e quindi porteremo a casa la battaglia sull'autenticità e sul vero made in Italy, potremo portare in Italia 300.000 posti di lavoro o comunque 300.000 posti di lavoro potrebbero essere salvaguardanti. In 20 secondi, che figure servono nelle aziende agricole oggi? Servono quelle tradizionali come servono quelle di evoluzione. Oggi serve il laureato in inglese perché le aziende cominciano ad internazionalizzare come serve l'informatico, come serve poi il potatore o il classico gestore di serre. Quindi servono figure poliedriche anche che vogliono cogestire l'azienda e assumersi anche una parte del rischio di impresa. E allora ci fermiamo qualche istante e torniamo in studio con la domanda finale ai nostri due giovani imprenditori che hanno vinto questo premio davvero straordinario. Oscar Green 2013 della Coldiretti. Allora, qualche istante ci fermiamo e torniamo subito in studio. Di nuovo in studio 20 e 52 con i nostri imprenditori, i giovani imprenditori del settore agricolo che hanno vinto questo importante premio Oscar Green 2013. Allora, subito da Marco Girodo, dell'allenamento Struzzi Agriturismo Girodo, piemontese, il sogno nel cassetto. Ora ha vinto questo premio, da tanti anni lavora, è giovanissimo. Qual è l'obiettivo? Il mio sogno nel cassetto intanto è dare un futuro ai miei figli e poi secondo me il sogno nel cassetto più grande è far crescere la mia azienda. Ma in che modo? Facendo rete con altre aziende dove io trovo che sia l'unico modo per far crescere queste piccole realtà di territori comunque molto frastagliati. Il titolare della Sicalindi, Marcello Rossetti, fare squadra. Quanto è importante, lei che viene dal sud, per il futuro? Vabbè, sicuramente è importantissimo, anzi indispensabile forse soprattutto in questo periodo. Nel caso nostro siamo un po' fortunati perché riusciamo a fare una filiera, filiera corta, per usare un termine a noi familiare, insomma, una filiera corta perché tutto all'interno riusciamo a controllare dalla produzione, trasformazione e prodotto finale. E invece il mio sogno, professore di domande, sui sogni nel cassetto è quello di poter creare dei negozi monomarca nel mondo, quindi il monomarca sarebbe Sicalindi. Lei andrebbe via dall'Italia perché molti imprenditori hanno bisogno di andare via. Lei andrebbe via? No, primo perché ci tengo troppo al mio paese, quindi all'Italia ci tengo troppo e secondo la vedrei come una sconfitta. Ultima domanda, proprio telegrafica. Abbiamo un minuto con il presidente dei giovani della Col di Retti, Vittorio San Giorgio. Vedendo tutte queste storie, sostanzialmente siamo fiduciosi, vedendo anche tutto quello che accade giornalmente, però c'è una situazione sociale esplosiva. Come coniugare il tutto? Come far rilanciare questo paese? Ne parlano tanti anche in questa trasmissione, però poi siamo sempre un paese fermo, immobile. Ci sono tante potenzialità. Io vorrei lasciarti e lasciare agli spettatori una riflessione. Forse dovremmo rivedere quali sono le cose veramente importanti per questo paese. se è più importante l'entusiasmo di questi giovani o quel grigiore di quelle cose che si definiscono importanti, ma poi vediamo che forse non lo sono. Allora, vogliamo cominciare a parlare di sogno? Forse dietro al sogno poi c'erano quei giovani che in questo paese ce la stanno facendo. Grazie allora e complimenti a queste persone, a questi giovanissimi capitani di azienda nel mondo dell'agricoltura che sono, sanno lì e rilanciano l'agricoltura italiana, l'agroalimentare italiano. Grazie al Presidente, grazie agli imprenditori. Ed ora TGTG, televisione del confronto, noi come sempre torniamo domani sera a 20.30 in diretta. Grazie a tutti, buona serata.